Ciao a tutti, sono Edoardo Stoppa e oggi sono qui per invitarvi a Rock di Sera Party. Il 19 febbraio, mi raccomando, segnatevi questa data perché è importantissimo esserci. Perché? Perché sentirete dell'ottima musica, ma anche perché parteciperete a una cosa che mi sta veramente a cuore. Sto parlando di Metal for Nepal, un'iniziativa che permetterà di aiutare tantissimi bambini in Nepal. Io da anni seguo un'associazione che appunto si chiama Italia Pro Nepal, che si occupa di dare un futuro a tantissimi bambini che altrimenti veramente ve la sicuro, io che ho visto le cose di persona, non ce l'avrebbero. Grazie a questa iniziativa Metal for Nepal verranno comprati, acquistati una serie di strumenti che daranno la possibilità a questi bambini un po' di sognare e di avere una colonna sonora, diciamo così, nella loro vita. Questo voi sapete quanto sia importante. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi perché è un'iniziativa bellissima. Metal for Nepal, la serata è quella di Rock di Sera Party il 19 febbraio. Ciao a tutti!